Attraverso il percorso del progetto CIC Costruire il Cambiamento, promosso dal coordinamento donne di montagna, le voci di più generazioni di donne si confrontano sul tema della valorizzazione delle terre alte attraverso la condivisione di saperi e la formazione dedicata specificamente alle donne di questi territori. L'occasione per incontrarle è stata la Tre Giorni delle Donne, un fine settimana a Cele Macra in Val Maira, aperto a tutte, durante il quale hanno portato la loro esperienza rappresentanti del mondo politico, accademico e giornalistico. Si tratta di un percorso iniziato vent'anni fa per essere ora un progetto in evoluzione che accoglie voci diverse attraverso la visione di donne di età diverse. Vent'anni fa eravamo a Cele di Macra qualcuna, in Valle Varaita qualcun'altra, si presentarono le elezioni provinciali di Cuneo, mancava la quota rosa e quindi venimmo coinvolte per i Verdi e quindi la nostra matrice ambientale ed ecologista nacque già allora e ci presentammo come candidate a supporto di lista. Chiaramente nessuna di noi uscì perché era una cosa fatta col cuore, non tanto con il cervello, però scoprimmo che insieme stavamo bene, che avevamo delle idee comuni e quindi incominciamo a fare delle piccole cose così come gruppo spontaneo finché nel 2007 nasciamo come associazione costituita ufficialmente. E da quel momento iniziamo a realizzare piccoli progetti sempre radicati sul territorio in cui la figura femminile era la figura centrale in tutte le sue sfaccettature. Quindi ci inventammo antichi saperi che era una mostra sulle professionalità e sulle capacità e sulle tradizioni femminili delle aree montane. Ci inventammo una montagna da sapere che erano le indicazioni su come vivere in montagna e su quali fossero le caratteristiche della montagna. Ci inventammo un'altra cosa che era il sabato del formaggio in cui c'era un itinerario per le varie fattorie, per le varie imprese femminili che producevano formaggio e c'era questa tappa a suon degustativa di formaggio e poi ci inventammo anche le tovagliette e cose di questo genere. Per cui il fulcro del coordinamento donne di montagna sono donne, saperi e sviluppo locale in un'ottica di totale e completa sostenibilità. Cos'è cambiato? È cambiato che adesso siamo più politiche e non intendo per politiche partitiche. Intendo proprio dire che ogni azione, ogni singola azione, ogni manifestazione, anche fare la spesa o comprare una cosa anziché un'altra o preferire una cosa anziché un'altra può essere un atto politico. Il problema è che le donne non ne hanno coscienza e quindi il nostro lavoro in questo periodo è proprio fornire strumenti alle donne affinché abbiano coscienza delle loro azioni, dell'influenza delle loro azioni. E gli strumenti vanno forniti sia a livello di informazione, quindi a livello gratuito, perché è corretto che sia così, ma anche predisponendo una rete di servizi che consente alle donne di operare scelte, perché è inutile avere una donna informata se poi nel momento di fare delle scelte non ha la disponibilità di scelta. E quindi il problema è da un canto costruire una rete di scelte e dall'altro offrire le informazioni. Abbiamo lavorato alla creazione di una rete di amministratrici, stiamo ancora lavorando alla formazione di questa rete, poiché riteniamo che le donne che fanno politica in montagna possano fare la differenza, poiché fanno politica con un approccio molto più attento all'ambiente, ma anche più attento alla disparità fra individui e fra uomini e donne ovviamente. È un percorso che ci sta portando a conoscere molte realtà nelle valli cunesi, ma in realtà ci stiamo spingendo anche nel torinese. Il confronto fra generazioni è molto rilevante, soprattutto quando si parla di femminismo. Da alcuni anni abbiamo alcune giovani socie o collaboratrici che hanno tra i 20 e i 30 anni e già si manifesta la differenza tra la mia visione di femminismo e di ambientalismo e la loro. Ancora più ampia è chiaramente la forbice fra le nuovissime socie e le fondatrici, le più anziane. È significativa questa differenza e credo che sia inevitabile il confronto, ma anche imparare nuove cose. Io mi rendo conto che ne insegno alle più anziane, alle più grandi e ne imparo costantemente dalle più giovani. Devo dire, mossa da molta curiosità, sono contenta di questo. E aggiungerei anche che avere nuove socie, nuove giovani socie, sta portando anche molto nutrimento a livello di contenuti, a livello di idee. Devo dire, è da un anno a questa parte che ci stiamo nutriendo di questa ricchezza, di questa pluralità. Fra le giovanissime si guarda la montagna come uno spazio di nuove possibilità, quindi di rottura rispetto al passato. Per me la montagna oggi è sicuramente un luogo di benessere. Non il benessere delle vacanze estive, ma uno spazio di possibilità dove avviare progetti tanto economici come di vite, esistenziali, è una sfida, ma senza retorica. Solo che la montagna privata di risorse umane, di risorse economiche, offre anche spazio per una ripartenza. E quindi nuove idee, magari idee che in città non troverebbero forma, insomma nei grossi centri, lascia mostrare la contrapposizione città-montagna, e che invece in montagna, proprio perché tutto è in qualche maniera a misura più piccola, ci si può sperimentare. Ecco, secondo me questa è la mia impressione. Secondo me una cosa molto positiva del coordinamento è proprio questa idea di mettere insieme delle persone e quindi avere questi tavoli di discussione, quindi appunto dei momenti in cui persone diverse, anche con background diversi, possono trovarsi e condividere o no degli spunti su queste tematiche. Sicuramente è un'esperienza molto arricchente, onestamente sia per me che in questo caso sono dalla parte della professionista che deve appunto facilitare la conversazione fra le diverse persone al tavolo, ma credo anche le persone che partecipano a questi dibattiti sono sicura che ne escano arricchite. Noi ci troviamo in questo momento in un'area interna, che ha però un gradino in più, perché non solo è un'area interna ma anche una terra alta, quindi è un'area montana, e la differenza fra un'area interna secondo me è un'area montana, è che l'area montana ha delle difficoltà in più che sono proprio legate alla sua morfologia e quindi il fatto di essere ad un'altitudine che rende le cose molto più complicate. Ovviamente ci sono cose molto più banali che mancano, quali servizi essenziali, sanità, educazione, trasporti, rete internet, insomma tutte queste cose che purtroppo da un lato ormai diamo per scontate, eppure qui ancora non ci sono. E anche se è vero che in montagna si vive ancora uno stile di vita più legato forse alle cose materiali, non è giusto dare per scontato che qui non ci sia bisogno di, insomma, gli stessi servizi di cui noi godiamo nelle città. Purtroppo, secondo me, una delle grandi cose è che la popolazione locale, la comunità locale è stata messa da parte dalle amministrazioni e dai policymaker, quindi effettivamente quelle persone che poi hanno in mano il potere decisionale, secondo me vengono molto trascurate e spesso ci dimentichiamo che questi luoghi sono comunque vissuti da qualcuno, li prendiamo come luoghi abbandonati, ma in realtà ci sono delle persone che vivono in questi luoghi e forse dovremmo veramente metterle di più al centro della discussione e prendere più in considerazione i loro punti di vista. Quindi forse questo potrebbe essere effettivamente un punto di partenza per rimettere l'umano al centro.